Grazie Ciao Francesco Ciao Francesco Com'è andata stasera? Veramente ho lavorato la mattina Comunque è andata a festa Sono stato il soggiorno seduto così E guardavo Si entrava e usciva dalla propria Ma quante sigarette si fuma? Eh oggi non ce l'ho fatto Guarda questo qualche Mi ho fumato i per quattro c'è Ma perchè non pretende si dare? Guarda come sto C'ho un bel fisico Faccio palestra, mi muovo Mi faccio la pancia Eh che vuoi fare? La picchiaia E poi com'è la vita così Ti sposi, trovi i picchi e fai la vita così Guarda Bravo Buonasera Per me è la vita Per me è la vita Poi ma Ancora Un mei doppio Sì come al solito Eh ma questo chi è? Mi piace E' la nuova barista Ma Eh Sì da quei signelli Così Eh Ma un mondo Eh Cari Non è vero Non è che me lo vengo Lo vediamo dai Il timore è giocato Sì come va Allora 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 Vieni da Vieni da Vieni da Vieni da Vieni da Vieni da Buon lavoro Grazie Grazie Vieni da domani Non so da un punto di lavoro Ciao Se hai fatto tardi anche per me A casa mi aspetta Che vuoi? Va ciao ciao Tu che fai? Eh io mo' mi faccio una pastriciata Oggi sono stato sempre fin Ok Ci vediamo Ciao ciao Signore mi sente? Signore mi sente? Fare Non rispondi Vediamo se respira Vediamo se respira Non respira Vediamo se dibattere il cuore Fortuna c'è il cuore Fortuna c'è il cuore C'è il cuore C'è il cuore C'è il cuore Aaaaaaah Aaaaaah 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 A 15 pulsazioni Io le fai Le passaggio Stai a prendermi da mangiare Il soccorridore si deve continuare il passaggio cardiaco fino a che le forze non lo abbandonano. Grazie